Un incontro in videoconferenza tra il gruppo degli attivisti 5 Stelle Gruttaglie e il deputato Giampaolo Cassese ed il consigliere regionale Marco Galante per parlare di sanità territoriale e delle possibilità di ripristino dei servizi dell'ospedale San Marco di Gruttaglie. Un confronto voluto dagli attivisti 5 Stelle del territorio che hanno ribadito le richieste di implementare l'assistenza territoriale, le attività di prevenzione ed educazione alla salute e di servizi di diagnosi, cura e riabilitazione all'interno del San Marco. Questioni che ci stanno a cuore e che seguiamo con particolare attenzione hanno dichiarato i due portavoce pentastellati a margine dell'incontro. Gli attivisti hanno focalizzato l'attenzione sullo stato dell'arte del nuovo ospedale San Cataldo, esprimendo la necessità di valutare con le autorità competenti l'eventuale riapertura del pronto soccorso di base nell'ospedale San Marco, nell'attesa che venga completata la nuova struttura. L'impegno dei due rappresentanti istituzionali è quello di richiedere un incontro con il dirigente sanitario ed il consigliere Galante aggiunge la volontà di presentare una richiesta di audizione in terza commissione sul superamento del DM70 alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19.